non fate così qual è il bello guardate le mie mani se faccia qui combattimento combattiamo pensa al ginocchio esatto scacchi al ginocchio e arriva sta bomba perché sai dai ashi voi lo avete molto evidente quindi sono in combattimento vedete come va giù la mano io ho proprio la spalla pronta ma devo avere la forza e si mostri l'attenzione ma assolutamente e vedi quanta distanza c'è non ho forza ho forza e magari perde al centro poi se parla vostra mente vede questa intenzione esatto e succede anche questo poi continuo all'inizio no però in ogni fase del combattimento chiama proprio ma devo uscire per dire con polso sto spalla sono sotto distanza sono molto sotto va bene anche però questo vito provate? allora cosa c'è bisogno? se riuscite mai fa questo perché si attiva quella parte io fino in fondo guardo là colpisco guardando là ancora più provate? posso allora io ho provato puntando giù sa dai ashi sa dai ashi ma le gambe dai 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 sto ja e io ho dovuto da qui scato quindi ho tutti bang guardate non guardate non guardate Grazie a tutti.